Proseguendo nel suo tour, tra Vittorio Scoglitti il vice sindaco Andrea La Rosa ha visitato i ricentri anziani della città per verificarne condizioni ed ascoltare le esigenze degli utenti. Come da programma amministrativo ha spiegato lo stesso La Rosa, stiamo proseguendo nel solco del dialogo e dell'impegno costante su tutto il territorio comunale. I centri anziani dovranno diventare il cuore pulsante ai nostri quartieri con servizi sempre più migliori ed efficienti. Su questa visita è intervenuto anche il sindaco Giovanni Moscata, a dire del quale proprio in estate molti anziani rimangono solo a Vittorio, per cui è necessario potenziare queste strutture rendendoli vive e funzionali. Nei prossimi giorni, annunciato il primo cittadino, saremo anche a Scoglitti e prenderemo contezza degli interventi più urgenti da effettuare e delle richieste degli utenti. Intanto ieri sono stati eletti il presidente vice della Commissione Affari Istituzionali. Si tratta rispettivamente di Salvatore Saleme di Rosa Maria Mazzone. Lunedì prossimo invece si procederà all'elezione dei vertici per la Commissione Cultura. Grazie. 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 Grazie.